tre mesi tre mesi di grid bot attivato a giugno come sta andando quale performance sono riuscito ad ottenere con un grid bot su bitcoin e usdt parliamo molto spesso dei bot parliamo un po di quelle che sono le loro caratteristiche di questi bot che poi ragazzi questi sono dei bot standard che gli exchange offrono in alcune situazioni ma poi la domanda è sempre la stessa ok sono validi non sono validi a cosa servono a cosa non servono e soprattutto quanta profitto quanto profitto posso fare con un grid bot allora mi è venuto in mente di fare questo esperimento tre mesi fa ho agganciato il grid bot in uno dei miei exchange preferiti quello che utilizzo per alcune tipologie di operatività spot lo vedremo oggi e oggi vi mostro anche i risultati che ho ottenuto così poi possiamo soppesare un pochettino la bilancia e dire pro contro va bene ma prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come sempre lasciatemi anche i super pollici poi sta andando alla stragrande il canale instagram ragazzi at trading on punto it iscrivetevi anche lì con dei contenuti che sono ad hoc proprio per quel canale quindi molto più semplici molto più basilari descritti poi faccio dire le faccio anche le live insomma delle cose cari vucce che stiamo mettendoci in testa va bene ragazzi allora oggi parliamo del grid bot che ho attivato tre mesi fa sul mio exchange preferito in per l'operatività spot che è uobi tantissimo tempo fa nel 2017 2018 quando eravamo nel pieno della bolla finale del 2017 ragazzi gli exchange hanno chiuso la gli accessi quasi tutti hanno chiuso gli accessi quindi avere un conto su un exchange per poter acquistare cripto volute era diventata una cosa incredibile sì lo so che può sembrarvi strano ma vi assicuro era difficile acquistare proprio le cripto era difficile avere accesso ai bitcoin fantastico questa cosa però da quell'esperienza qualcosa mi è rimasta ragazzi quindi credo un po tutti quelli che come me in quel momento hanno vissuto quei blocchi hanno fatto una cosa quando a gennaio è stato possibile poi durante il crollo in pratica hanno riaperto ci siamo fatti tutti gli exchange abbiamo preso tutti gli exchange abbiamo iniziato a testare in tutti i modi ma uobi in particolar modo io lo utilizzavo già da un po di tempo anche per quanto riguarda la questione legata al mining perché abbiamo utilizzato molto la loro pool di mining che tempo fa era veramente una pool molto operativa ragazzi ok e that's it questa è un aneddito che vi ho raccontato anche il motivo del perché probabilmente moltissimi di noi hanno anche utilizzato tantissimi di questi exchange perché quindi ho usato di bot su obi perché avevo già questo contro l'utilizzo da un po per fare una serie di operatività mi piace molto l'ecosistema mi piace molto la semplicità perché secondo me ha importanza anche questo ragazzi a livello degli exchange dei mercati cripto quando si vanno a scegliere la semplicità per me è il punto principale e quindi è molto vicino per esempio a coinbase nell'ambito della semplicità ma mentre come base delle fie elevatissime è secondo me molto indietro da alcuni punti di vista come l'ecosistema sullo staking learning e tante altre cose secondo me è troppo semplice quello di coinbase allora uobbino giusta di di mezzo magari fra alcune complessità di binance e magari che un po delle piattaforme che magari è un po vasta diciamo da questo punto di sarà secondo me la killer future principale di questo exchange è senza dubbio la questione è legata alla semplicità poi ragazzi intanto vi lascio come sempre il link in descrizione che mi date anche una mano ragazzi quindi se volete provare questo exchange è anche il grid bot che vedremo in questo video vi lascio il link in descrizione e poi c'è questa cosa qui che loro fanno che io insomma ragazzi la adoro perché è un'accoppiata un po stile anche coinbase con quello che è il welcome bonus quindi 170 dollari che vi portate a casa completando queste lezioni cine quindi fate il lì di la verifica poi utilizzate di lo swap account poi fate un deposito e man mano che andate avanti in tutte queste basic tasks e poi la domande the tasks vi portate a casa dei soldini dei rewards che perché no non fanno mai male ragazzi quindi vi lascio il link anche in descrizione dove potete andare a utilizzare aprirvi il conto di wabi anche perché in italiano adesso quindi lo trovate anche in lingua italiana io li uso tutti in lingua inglese perché non mi piacciono le traduzioni in italiano di alcuni termini però ragazzi adesso lo trovate in lingua italiana anche l'app di wabi è veramente molto semplice infatti io il grid bot l'ho attivato dal telefono ragazzi non l'ho attivato mai andando da desktop questa è un'altra cosa che secondo me è veramente molto 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 rilevante allora io credo che poi ci sono una serie di pro la uso molto per fare per esempio per tenere in spot le cripto e poi in automatico farmele mettere in lending da loro in staking in modo tale che comunque vanno in rendita però di questo magari ne parliamo in un altro video perché altrimenti viene di 12 chilometri ragazzi quindi secondo me insomma va approfondito comunque l'argomento poi da un punto di vista invece di contro c'è un contro che secondo me è il più rilevante non si possono prelevare euro e depositarli in banca italiana quindi questo exchange lo potete utilizzare per versare gli euro e comprare le cripto ma il indietro non ci tornate cioè dovete comunque utilizzare un altro exchange se volete riprendervi poi i soldi e metterli sulla sulla banca ma chi lo fa questa cosa qui cioè io ho fatto una volta forse per prova vabbè chi si prende le cripto e si riprende gli euro lo scrive nei commenti perché non so chi lo fa ma sono pochissimi secondo me va bene ragazzi allora andiamo a guardare il grid bot allora questo grid bot che ho attivato e l'ho attivato il a giugno in pratica ecco quello che vedete qui e sta performando circa con un ritorno del 9 per cento in tre mesi adesso andiamo a verificarne tutti i dettagli vi faccio vedere come si è come l'ho attivato quali sono dei parametri chiave poi facciamo una conclusione un giro generale e di test sulla possibilità di utilizzare questi bot a cosa servono principalmente secondo me e come lo possiamo utilizzare quindi andiamo a vedere anche quelli che sono poi tutti i dettagli di questa strategia che è stata attivata allora ragazzi vabbè qui vedete il mio investimento di test sono 3.500 dollari quindi come test generale per un bot a griglia allora cosa ho fatto wabi dà la possibilità di utilizzare nella creazione dei bot a griglia sia dei parametri manuali sia dei parametri automatici con un'intelligenza artificiale che fa una cosa fa un back test dei dati storici degli ultimi sette giorni e modifica i livelli dei parametri soprattutto modifica la griglia quindi il range di prezzo e poi modifica anche il profit margin per grid quindi lo auto sistemano quindi lo auto aggiornano in base a che movimenti e del mercato e soprattutto alla back test quindi alla ai migliori parametri che escono fuori dal back test gli ultimi sette giorni che cos'è un back test va bene ragazzi ok per test è un'analisi dei dati passati ovviamente non sono mai dati futuri che si vanno ad auto avverarsi ragazzi però è una buona indicazione per esempio su quelli che possono essere i parametri utili da utilizzare man mano perché lo fanno a sette test perché fanno una specie di sistema che si chiama walk forward pro e contro due milioni e mezzo di riflessioni da fare non è questa la sede giusta perché qui parliamo poi di analisi quantitativa quindi non è il caso diciamo di addentrarci va bene intanto primo punto favorevole questo botto con l'intelligenza artificiale quindi come l'ha creato wabi stesso ragazzi quindi non ho messo mano io quindi ho semplicemente premuto due bottoni ora vi faccio anche vedere è andato in profit sicuramente il mercato lo ha aiutato perché nella prima parte del dei primi giorni primi venti giorni io avendolo attivato a giugno il mercato ancora non aveva fatto la sua fase di ripresa quella che abbiamo visto invece da luglio in poi quindi abbiamo visto sia la parte cioè ho visto sia la parte di oscillazione negativa di bitcoin sia la parte centrale di trading range sia la parte positiva allora quello che insomma non ho i dati per farveli vedere ma comunque dovete fidarvi delle mie parole nella parte negativa il botto era in perdita come normale che sia soprattutto per i primi cambi perché cambiando ovviamente in bitcoin quando inizia a fare le operatività e se bitcoin poi va giù inizialmente si perde poi invece nel momento in cui è andato a innescare la griglia a mano a mano recuperato tutti questi livelli e poi quando c'è stato uno svancio positivo ovviamente è andato in positivo manca ancora l'altra parte cioè da positivo se ritorniamo ad avere una fase di bassista come questo botto può gestire la operatività ok come si fa ad avviare questo tipo di botto semplicemente basta andare sulla task spot trading poi scendere qui abbiamo il training botto vi si apre la schermata a dire la verità non riesco a farvelo vedere ora da applicazione mobile ma è veramente veramente semplice forse anche più semplice farlo da mobile comunque qui è la task della grid botto in io ho utilizzato appunto questa intelligenza artificiale con l'automazione dove qui vi dice appunto cosa fanno quindi autosistemano i parametri in base a un backtest di sette giorni sulla base della migliore performance a livello annuale del botto quindi questo come vi ho spiegato prima identificano i migliori range e la profit margin per grid allora qui poi ovviamente potete anche andare a sistemare voi la griglia automaticamente inserendo anche la singola quantità e insomma fare tutte le vostre questioni manuali ma io ho fatto semplicemente questo in questo punto ho scritto l'investimento che volevo portare avanti erano i 3500 dollari e poi ho premuto continua tutto qui ragazzi da lì in poi ha fatto tutto wabi con la loro strategia hanno messo tante griglie perché c'erano diversi livelli in questo caso per esempio sul mio personale se non erro c'erano una anche una quarantina di livelli di griglia adesso lo rivediamo ragazzi ok vi rimetto lo schermo lo schermo ecco in questo momento 43 livelli di griglia insomma sono veramente tantissimi è la cosa che un po lascia dico a desiderare almeno per un trader minimista in questo ragazzi 1363 operazioni effettuate dal bottiglia sono veramente tantissime però alla fine ragazzi la questione legata alle operazioni che sono tante ma intanto lo fa un bot quindi non noi chiaramente secondariamente le commissioni e le fii pagate agli exchange in questo caso nel settore cripto non sono mai con dei minimi fissi quindi non c'è il problema dell'operatività perché è un costo variabile quindi o fate una singola operazione da 10.000 dollari o ne fate una da piccole migliaia di dollari che cambiano e scambiano la commissione pagata è sempre la stessa ragazzi è variabile quindi non è importante se facciamo un numero di operazioni con dei piccolissimi importi perché la griglia ovviamente spalma gli importi ragazzi non è che vi investe sempre 3.500 cioè fa dei piccoli ingressi quindi alla fine il risultato delle commissioni pagate al broker non è di forme da fare un unico investimento ovviamente sono molto più operazioni quindi alla fine è più alto però non è poi così impattante l'importante è che vada a buon fine quello che è la strategia allora mio gusto personale questo tipo di bot come mi ha fatto anche sentire qual è la struttura intanto vi ripeto la questione legata alla broker wabi mi è piaciuto tanto perché rispetto anche ad altri bot griglia che avevo utilizzato per esempio quelli a pagamento in quel caso insomma non hanno molto motivo di esistere perché se esistono questi insomma lì dobbiamo avere delle plusvalenze notevoli se andiamo a utilizzare dei bot a griglia a pagamento voi sapete che io utilizzo moltissimo i train system e i bot ma i miei non sono questo tipo di bot sono botti di tutt'altro tipo e chiaramente insomma non sono reperibili online non sono automatizzabili non non li fa nessuno cioè quelle sono strategie personali proprietarie che vengono messe online ma questo tipo di bot che sono gli arbitraggi le griglie eccetera sono standard da un po in tantissime piattaforme quindi se ci sono dei bot a griglia a pagamento devono avere un quel qualcosa in più che mi dà la possibilità di recuperare quanto il costo e soprattutto avere un vantaggio competitivo magari rispetto a quelli più standard che sono questi quindi ho scelto di operare quindi su hobby perché l'ho fatto sotto l'ombrellone con lo smartphone ragazzi veramente più semplice di quello che ho fatto vedere poi volevo testare la loro la loro ia che andava a modificare i parametri appunto per vedere cosa avrebbero fatto allora conclusioni quindi complimenti a tuo hobby per questo tipo di di questione ha fatto un grande lavoro come sempre nell'idea della semplicità di questo exchange che uso ormai da anni veramente ragazzi se vi facessi vedere le pull la pull di guobi quando facevamo mining veramente risale a tantissimi anni fa poi tra l'altro e insomma essendo anche un top exchange ovviamente esiste da tantissimo tempo però al di là di questo quali sono le mie idee le mie conclusioni generali sulla questione legata al bot a griglia ragazzi il bot a griglia lo dico subito il bot a griglia è un bot da utilizzare come una struttura alternativa ad una se fai defai su usdt quindi non è un bot da trading questo ve lo dico secondo me non è un bot trading cioè secondo me non è un bot che può andare ad essere accostato o comunque messo in relazione ad un'operazione di trading a un portafoglio di investimenti perché ovviamente se le cripto salgono salgono sempre di più di un bot a griglia quindi andare anche qui vedete la questione legata per esempio alla performance da un punto di vista annuale è vero che è molto è molto alta perché il 9 per cento trimestrale significa oltre il 45 pare qui non lo riportano però su quella su quella sulla versione mobile c'è anche scritto a quanto epi corrisponde questo tipo di rendimento che come vi dicevo prima intorno più o meno al 35 40 per cento allora questo è la tipologia di rendimento quindi ok il 40 per cento è molto alto ok ma non è alto se noi lo andiamo a rapportare all'andamento per esempio di bitcoin che in questo caso è la controparte di usdt che sta operando quindi bitcoin ha fatto di più del 40 per cento questi bot servono a cosa ragazzi ad essere alternativi a un investimento di usdt per esempio che viene messo in earning in staking e vita per esempio il 12 per cento allora io in questo caso cosa faccio una parte di quel mio patrimonio usdt che voglio aumentare il livello di rischio non tenerlo in se fai e defai a un tasso del 12 per cento lo metto in un grid bot di questo tipo gli faccio fare le sue operazioni se la cosa va bene arrivo anche a un 40 per cento 30 40 per cento molto di più del 12 10 che viene garantito solitamente dalle varie se fa insomma standard eccetera ok quindi cosa faccio vado a aumentare il rischio perché mentre se fai sono garantite tecnicamente insomma se non scappano falliscono le solite cose delle delle cripto hackerano eccetera i soliti rischi del settore sono comunque rendimenti tecnicamente garantiti questo non lo è ragazzi perché se il mercato gira sorto e bitcoin va giù e non fa l'andamento giusto per la griglia chiaramente questi tipi di botti iniziano a soffrire però qui possiamo mettere una parte che possiamo di usdt che può essere a maggior rischio ok voi non dovete sempre scegliere degli investimenti che sono non diversificati gli investimenti si diversificano oltre che alla scelta delle coin per esempio anche nel target e nell'obiettivo del nostro investimento quindi qui ci va messo la parte di investimento dei dollari per esempio che volete adibire ad una rendita quindi sdt a rendita su se fai e defai aumentandone leggermente il rischio quindi con la possibilità anche di perdere addirittura su quella somma ma con la possibilità di guadagnare il quadruplo per esempio di una strategia sulla se fai questa è la questione quindi poi miscelate fate la torta fate la ricetta fate il vostro dolce mettendo dentro un po di qui il 75 per cento lì il 25 per cento lì e vi esce il papone poi può essere anche che questo bot grid che io ovviamente lascio tranquillamente ragazzi perché ha gestito bene anche il pump di bitcoin che potrebbe essere anche difficile da gestire per questo tipo di botto vediamo cosa fa proprio alla fine dell'anno se mi porta a casa un 40 per cento su queste somme va benissimo in questo modo anzi aumenterò probabilmente il prossimo anno aggiungendone altra altra parte proprio per fargli fare questo tipo di rendita va bene allora qual è la vostra opinione moltissimo è stato il grid botto per poco tempo che non si sono trovati perché perché che il botto ragazzi per quello che vi ho detto non può essere utilizzato per un mese ok non ha nessun senso fare questo tipo di operatività questi sono voto soprattutto se li utilizzate a livello di trading automatico quindi fate fare tutto l'exchange come Wobby dovete dargli il tempo sei mesi tre mesi sono il minimo ragazzi vediamo fra sei mesi faremo anche un aggiornamento vedremo dove è andato che cosa ha fatto perché sono bot che vanno paragonati appunto a un rendimento come la se fai quindi non è una cosa legata al trading e il trading è l'operazione singola potete fare anche con un riferimento a un mese e verificare se un tipo di strategia magari fatta su un time frame a 15 minuti può darvi profitto entro un mese ma un tipo di bot come il grid non va gestito per quello quindi complimenti a Wobby per questa intelligenza artificiale che ha dato degli ottimi frutti ve li faccio rivedere di nuovo quindi sta gestendo bene questa fase con il grid bot mi piace tanto soprattutto che io non ho fatto proprio nulla ragazzi quindi questo è un grande vantaggio non fare nulla funziona tutto a dovere basta un tasto e lo metto dentro basta un tasto ed esco fuori da questo investimento semplicemente cliccando qui sul release to release profit quindi chiudo la macchina e la rimetto dentro la riattivo quando mi pare fa tutto da solo va benissimo e funge anche da da un mio investimento alternativo a quelli che ci sono i earnings vi lascio il link in descrizione ai di Wobby mi date una mano anche e mi sostenete con il canale come sempre fatemi sapere voi se li avete utilizzati che cosa state facendo con il bot il grid bot e soprattutto quali risultati avete ottenuto se ci sono consigli che potete dare alla community nei commenti ciao a tutti e noi ci ci rivediamo nel prossimo video